Buonasera a tutti, sono le 5 in punto e quindi partiamo. Se arriva qualcuno ci perdonerà, ma così magari la prossima volta impara a essere puntuale e preciso. Salutiamo anche quelli che in questo momento non sono qua, ma ci stanno ascoltando da casa, o ci ascolteranno da casa in qualche futuro, visto che come sapete questa conferenza, come tutte le altre che fa la biblioteca di Ostea, viene trasmessa in streaming sul canale YouTube della biblioteca di Ostea ed rimane tra l'altro lì a imperitura memoria, si può comunque consultare. Il dottor Fausto Natale, che ringrazio come tutte le volte della sua ospitalità, dell'organizzazione che lavora qui in biblioteca di Ostea, mi suggeriva la possibilità di ripartire con quella che è sempre stata una tradizione di queste conferenze, cioè il famoso giro all'interno della biblioteca che alcuni di voi ricorderanno fino ad andare al teatro anatomico. Allora io ho detto che per oggi ormai dispensiamo chi è già seduto qua dall'alzarsi e allo spostarsi, ma prossimamente questa modalità appena è possibile. Speriamo appunto che le circostanze organizzative, sanitarie, politiche sanitarie ce lo consentano. Riprenderemo dalla prossima volta il nostro tour all'interno delle biblioteca di Ostea partendo dal teatro anatomico. Voi direte, vabbè, comunque quello che conta poi è quello che uno dice, non dove e come. Sì, però intanto c'è una sostanza di quello che uno dice e c'è una forma. L'aspetto formale non è secondario. Essere nel teatro anatomico ci riporta, oggi lo facciamo solo così, in via immaginativa, ma dalla prossima occasione, il mese prossimo, lo faremo in un modo concreto, ci riporta intanto a contatto con quella che è la nuda e più profonda realtà dell'anatomia della mente. Cioè che è l'anatomia del corpo e dell'anima contemporaneamente. Nel teatro anatomico, come sapete, che è stato costruito nel Settecento e che ha sostituito l'antico teatro anatomico fatto di un legno molto meno nobile e non progettato da un architetto, ma che era stato finanziato dagli stessi studenti dello studio, cioè dell'università, così si chiamavano nell'antichità di università, lo studio ferrarese, sono autotassati e hanno costruito il primo teatro anatomico che era proprio il luogo in cui si facevano le lezioni, che a quel tempo erano lezioni, in particolare ovviamente quelle di medicina, fatte proprio sull'anatomia vera del corpo della persona. Oggi noi, per un'ennesima occasione, esploriamo non tanto in questo caso un corpo, ma addirittura l'anima, ma vedremo che poi non c'è questa scissione così dualistica tra questi due aspetti, il corpo e l'anima. E che nell'arco della storia, delle pensiere umane, della civiltà, anzi tutta una serie di elementi si sono concatenati l'uno all'altro in un percorso che spesso è un ripartire da zero nel dare un significato a questo termine di anima che nel titolo, l'avete visto, della conferenza compare anche come Le anime viventi e l'anima del mondo. Ho usato questa terminologia che deriva direttamente dal principale degli studiosi di cui parleremo oggi, cioè James Hillman, uno psicologo di origine europea, ma che ha vissuto specialmente in America, ma ha avuto molti contatti anche con l'Europa e con l'Italia, e che allievo di Jung, ha lavorato a Zurigo nella scuola jungiana fondata appunto da Carl Gustav Jung, ne ha ereditato in qualche modo la responsabilità anche sul piano della dottrina, ma è stato poi anche un po' un eretico cioè ha deviato rispetto alle teorie jungiane costruendo proprio tutta una serie di articolazioni, di considerazioni e di intuizioni e di immaginazioni intorno all'anima a partire certo anche dal pensiero jungiano, ma come vedremo con radici filosofiche molto più variegate, molto più profonde per certi aspetti anche un po' contraddittori. Ma procediamo con ordine e iniziamo, io farò scorrere queste slide, so che non si vede molto ma specialmente per chi ci vede da lontano, visto che la videocamera è lì in obliquo però servono anche in qualche modo magari per voi come stimolo per ricostruire, capire quello di cui stiamo parlando sia nella locandina che avete visto prima sia nella prima delle diapositive di questa presentazione io ho riportato una poesia una poesia latina che ci è stata tramandata in una delle più grandi raccolte della poesia latina dell'epoca imperiale e che è stata attribuita probabilmente effettivamente è andata così all'imperatore romano che più da questo punto di vista si è dedicato alla scrittura, alla lettura e cioè all'imperatore Adriano avrete letto o comunque sentito citare i pensieri di Adriano una raccolta di aforismi, di considerazioni, di saggi e questa poesia la riprenderemo dopo la leggeremo con attenzione ci colloca già proprio all'interno di questo viaggio il nostro viaggio nell'esplorare ciò che significa l'anima dal punto di vista psicologico con qualche riferimento per quello che posso fare io dal punto di vista filosofico quindi anche confessando in qualche modo il mio dilettantismo filosofico ma esplorando anche poi attraverso le parole di studiosi invece che si sono documentati su questo e ne cito uno per tutti Vito Mancuso che voi conoscerete e che ha scritto L'anima e il suo destino un testo molto importante che useremo poco perché specialmente centrato sull'aspetto religioso e teologico che esce un po' dalla prospettiva mia come psichiatra e come psicologo oggi invece ci occupiamo più per quanto sia possibile dell'aspetto scientifico e questo è un po' un sommario dei contenuti e cioè non solo la poesia riportata anche da Mariette Jusenard nel libro Memorie di Adriano ma anche i primi viaggi dell'anima che compaiono nella letteratura il primo in assoluto è quello dell'Odissea di Omero leggeremo qualche brano di Platone e delle teorie platoniche sull'anima specialmente riportate nel Fedro parleremo fuggevolmente delle teorie di Aristotele sull'anima Aristotele ha scritto molto sull'anima e poi con un grande salto andremo all'era invece cristiana e quindi ai contributi di Agostino di origine di Tommaso d'Aquino fino a Dante e Virgilio per arrivare poi a Cartesio che sarà un punto importante e infine attraverso l'antropologia la psicoanalisi e la psicologia potremo esaminare sempre a volo d'uccello quello che ha scritto specialmente James Hillman a partire dagli studi e dagli scritti di Carl Gustav Jung ma citeremo anche un grande psicoanalista italiano forse a mio avviso nettamente il più grande e cioè Franco Fornari che è scomparso negli anni Ottanta ma che ha scritto un libro ancora oggi validissimo che si chiama La riscoperta dell'anima allora come sempre partiamo dalla radice delle parole che sono sempre una luce una guida nell'esplorare i concetti noi definiamo con un certo termine una parola perché c'è un significato più profondo storico che ci spinge a utilizzare questi termini e qual è la radice più profonda di questa parola anima deriva in qualche modo dalla radice greca animos che significa vento soffio e questo non ci sorprenderà perché sappiamo che l'anima viene anche chiamata e definita il soffio vitale dagli antichi in molte culture in molti ambienti religiosi in molti spunti letterari si parla dell'anima come soffio vitale in un modo che evidentemente nasce dall'osservazione empirica pure semplice cioè un essere vivente inteso come un essere vivente superiore specialmente un essere umano se vivo respira se non respira quindi non ha più dentro di sé il soffio vitale che lo anima è un gioco di parole ma che sottolinea ancora una volta il significato della parola allora la sua anima non è più nel suo corpo l'anima vitale l'anima che lo anima e lo colloca all'interno di un universo in cui può interagire col mondo con gli oggetti del mondo oggetti che noi distinguiamo ed è una distinzione classica sia dalla antica filosofia greca ma anche dalla moderna più filosofia cartesiana fra cose animate e cose inanimate il mondo quindi delle cose il mondo terreno il mondo concreto quello che cartesio definiva res extensa e invece il mondo dell'anima il mondo spirituale il mondo che in qualche modo ascende verso l'alto verso un dio verso un olimpo verso il cielo che è rappresentato proprio appunto dall'elemento del soffio ma anche del respiro e dell'ascesa ecco respiro soffio spiritum vedete come anima si può tradurre in latino anche come spirito e quando noi parliamo di vita spirituale parliamo proprio di ciò che come un soffio vitale anima gli individui è anche la stessa definizione di psiche psicologia nasce proprio da questa origine anche psiche vuol dire soffio soffio vitale e quindi in qualche modo la psicologia si può definire così fu definita fino a pochi secoli fa lo studio dell'anima uno studio che originariamente apparteneva all'ambito religioso poi è stato traslato in abito filosofico già dal medioevo e infine tradotto in termini più moderni noi chiaramente in psicologia non riusciamo a definire l'anima ma riusciamo a definire la mente le funzioni mentali e vedremo che per certi aspetti c'è un qualche collegamento fra questi due aspetti schematici ecco quindi che come vedete in questo frammento di un vaso antico attico del quarto secolo avanti Cristo abbiamo Odisseo e Tiresia che entrano nel mondo dei morti c'è un mondo dei morti dove i morti però non sono gli zombie non sono i cadaveri sono le anime le anime dei morti nel pensiero greco infatti la nazione di anima psiche nasce proprio solo dopo la morte prima nella morte non avrebbero mai potuto pensare o dire che un individuo è composto di un corpo e di un'anima di un corpo e di una mente come invece la dottrina cristiana e cattolica più recente continua a sostenere con tutta una serie anche di dubbi e anche di eresie molti eretici furono condannati per aver sostenuto per esempio che l'anima preesiste al corpo o che l'anima viene infusa da dio nel corpo tutte teorie su cui i teologi si sono a lungo confrontati e anche scontrati e io partirei proprio da questo con la prima citazione il primo brano che vorrei leggervi e illustrarvi nel libro il viaggio dell'anima che riporta la traduzione di un'opera di un grande filosofo che si chiamava Origene l'inizio l'incipit del suo viaggio dell'anima è questo quando Dio creò il mondo creò molti cibi differenti in rapporto con le diversità sia del desiderio degli uomini sia della natura degli animali perciò non soltanto l'uomo quando avrà visto il cibo degli animali sa che è stato creato non per sé ma per quelli ma anche gli animali riconoscono i propri cibi per esempio di alcuni cibi si ciba il leone di altri il cervo di altri il bue di altri ancora gli uccelli ma anche tra gli uomini ci sono differenze quanto al desiderio dei cibi uno che in buona salute gode di robusta costituzione ricrede nutrimento consistente crede ed è convinto di poter mangiare di tutto come i più forti degli atleti se invece uno si sente debole e poco bene si accontenta di legumi perché a causa della salute malferma non tollera cibo di non facile digestione se poi è un bambino molto piccolo anche se non sa spiegarsi a parole di fatto non richiede altro nutrimento che il latte insomma ognuno in relazione all'età o alle forze o alla salute del corpo richiede un nutrimento adatto a sé e proporzionato alla sua capacità strano incipit strano inizio deve parlare del viaggio dell'anima e inizia a parlare invece del corpo e di elementi estrettamente corporei pulsioni le chiamiamo modernamente spinte alla sopravvivenza la fame in qualche modo qualche cosa che anima scusate continui i involontari giochi di parole fin dall'inizio il piccolo dell'uomo che reclama il cibo e che ricava piacere soltanto dal cibo ma non qualunque cibo il cibo che lo gratifica è il latte caldo della madre un suo sostituto artificiale porta tutto il resto anche alla bocca proprio in una situazione in cui la sua esplorazione del mondo passa per il cibo passa per la bocca origine parte da questo e questo già ci introduce in una serie di temi gli animali come cibo per esempio gli animali hanno un'anima e se ce l'hanno com'è possibile che noi con grande serenità con grande tranquillità da sempre almeno noi uomini e donne moderni che su questo piano abbiamo abbiamo maturato una sensibilità per questi nostri compagni di vita abbandoniamo completamente l'idea che non si possa allevare qualcuno per ucciderlo e per cibarsene capite che dietro al sogno se volete anche al delirio vegetariano ci stanno però delle profonde ragioni filosofiche religiose di rispetto di rispetto della natura di cosa noi possiamo fare riguardo all'anima della natura ecco vedete cominciamo a avvicinarci ai concetti di James Hillman che su questo si dà molte cose la natura ha un'anima le cose hanno un'anima in che senso beh intanto nel senso che noi attribuiamo alle cose un'anima cos'è l'animismo sfogliate una qualunque enciclopedia o qualunque sito internet scusate oggi le enciclopedie non esistono più e vedrete che l'animismo è la religione naturale normale di tutte le civiltà primitive cioè che attribuiscono uno spirito al bosco uno spirito al fiume uno spirito alla montagna e tuttora queste cose non sono come dire un retaggio antico e superato su cui sorridere o ridere di costumi tribali primitivi e superati no sono invece qualcosa che è ancora presente dentro di noi chi ama la montagna conosce lo spirito della montagna nel senso che non si immagina che ci sia in qualche modo un daimon un genio per dirla in altri termini cioè un'entità spirituale che abita ma contemporaneamente sa che non rispettare un bosco non rispettare un fiume non rispettare un animale va certamente entra in un modo drammatico e crudele nella anima che poi in fondo è la nostra Ilman dice gli animali entrano nella nostra anima perché noi abbiamo un'anima che è anche l'anima animale un'anima sensitiva se volete ma non voglio anticipare troppi argomenti Origine in realtà non ha questa idea perché continua così se avete considerato a sufficienza questo esempio che riguarda ciò che attiene al corpo passiamo ora da questo alla comprensione delle realtà spirituali ecco dove vuole arrivare ogni natura razionale ha bisogno di essere nutrita con specifici cibi adatti ad essa e il vero nutrimento della natura razionale è la parola di Dio ma come a proposito del nutrimento del corpo abbiamo ora rilevato molte differenze così la natura razionale che si nutre come abbiamo detto della parola di Dio non si ciba tutta di una sola e medesima parola perciò a somiglianza dell'esempio relativo ai corpi c'è anche nella parola di Dio come cibo il latte vale a dire una dottrina molto chiara semplice e dolce che riguarda argomenti di carattere morale i quali abitualmente vengono proposti a quanti sono agli inizi dello studio della scrittura e ricevono i primi rudimenti dell'istruzione ecco allora che dice in modo ovviamente un po' allegorico origine se c'è un nutrimento per il corpo ci deve essere anche per l'anima e il nutrimento per l'anima è un nutrimento che non è fatto di cibi ovviamente ma è simbolicamente trasferito dice lui nella parola di Dio ma noi potremmo dire in qualunque esercizio che vada al di là della realtà attuale della concretezza io qua ho una distesa di libri siamo nella biblioteca è normale che sia ma dentro questi libri abitano tante anime tante anime di persone che hanno scritto tante anime legate a quando io ho letto per la prima volta questi libri al fatto di ricordare davanti a voi quanto questi libri abbiano e possano continuare a darci un nutrimento voi capite che questo significato è un significato che sembra prescindere dall'aspetto dell'anima ma io sono uno psicologo uno psichiatra e se non è così facile trasferiamo il concetto di anima al concetto di mente e cominciamo a capire cominciamo a capire per esempio che l'idea del rispetto per ogni essere vivente anche un vegetale di questa terra è una forma di rispetto verso qualunque essere vivente e quindi non voglio toccare questo tasto doloroso in questo momento ma è anche impossibile non nominarlo il fatto che a pochi chilometri di distanza poche centinaia di chilometri di distanza da qui muoiano persone e mi riferisco a tutte le persone adesso mi riferisco anche ai soldati anche ai soldati russi ucraini che in questo momento stanno combattendo una guerra a mio avviso e non solo a mio avviso insensata ecco l'educazione a coltivare il nutrimento dell'anima parte proprio da questo parte dall'idea di confronterci anche con questo che altri prima di noi hanno scritto hanno detto hanno pensato e grazie a loro noi possiamo oggi parlare di questo argomento se volete anche per certi aspetti faticoso difficile da affrontare no? l'anima perché? perché ci confronta con la morte il primo viaggio dell'anima abbiamo detto nella letteratura e nell'Odissea di Omero Ermes siamo nel canto ventiquattresimo Mercurio potremmo dire alla latina chiama le anime dei proci che sono stati vi ricordate sterminati da Ulisse con il suo arco quando lui è tornato e si è vendicato a Itaca con l'aiuto di Telemaco e la complicità della moglie chiama le anime e le guida all'Ade con la verga d'oro muovendole lungo bui sentieri come pipistrelli che stridono in una orrida caverna questa è la descrizione di Omero della discesa nell'Ade delle anime il primo viaggio delle anime nella letteratura ora Omero non sappiamo neanche se si è davvero desistito sapete che c'è una questione omerica perché sicuramente i poemi che ci sono arrivati sono frutto di una serie di elaborazioni che partivano poi dalla declamazione orale di questi versi spesso anche accompagnata da musica quindi è solo un piccolo saggio di quello che poteva essere la narrazione epica in epoca antica e che via via è stata sostituita dopo la tradizione orale alla scrittura prima su volumen volumina cioè su rotoli di carta e poi modernamente la stampa da Gutenberg in poi e poi la televisione e poi web internet oggi non abbiamo più cose scritte materialmente ma cose in qualche modo dipinte con dei piccoli lumicini che chiamiamo pixel i nostri figli i nostri nipoti leggono delle cose che non sono più impresse stampate per lo più però le vicende dell'anima sono ancora qui presenti fra noi cosa vuol dire la discesa agli inferi cosa è diventata poi nel nostro immaginario cristiano e cattolico ma anche se volete in tante altre culture l'anima che discende contraposta all'anima che ascende l'anima che va verso il basso in qualche modo come una sorta di punizione la morale voi sapete può essere molto variabile indipendentemente dall'aspetto religioso ma in tutte le religioni c'è comunque una discesa dell'anima pensate alla metensicosi alla reincarnazione che secondo molte religioni orientali nel momento in cui la tua vita viene condotta in un modo indegno ti porta a reincarnarti in un essere inferiore o viceversa essere promosso con la tua anima a un essere superiore l'anima che scende è l'anima invece che sale al cielo ecco l'imperatore Adriano che vi ho accennato prima ne vedete nei primi secoli dopo Cristo lui viene dopo la genastia Giulio Claudia quindi viene dopo Traiano in realtà una serie di imperatori che si erano anche macchiati di delitti orribili e nefandezze i persecutori dei cristiani dei primi cristiani che avevano forse Nerone incendiato Roma addirittura suonato la lira poeticamente di fronte all'incendio di Roma Adriano è un grande grande filosofo e scrive questa poesia salutando la propria anima quando è già vicino e lo sa alla propria morte se rileggete le memorie di Adriano ma anche gli scritti proprio di Adriano si coglie questo aspetto lui sa che in qualche modo sta per abbandonare questa terra sta per abbandonare la vita allora parla alla sua anima e le dice animula bagula blandula piccola anima smarrita e soave lo leggo in italiano compagna e ospite del corpo compagna e ospite ora ti appresti a scendere in luoghi incolori ardui e spogli ora non avrai più gli svaghi consueti ecco ancora una volta l'idea che l'anima separata dal corpo venga in qualche modo confinata in spazi angusti stretti in bui in cui perde vedete come la la idea che ci sia un premio o una punizione dopo la vita in fondo dal punto di vista religioso e filosofico non è ancora presente è assolutamente una logica pre-cristiana e in fondo non dimentichiamo che da questo punto di vista il destino dell'anima dopo la morte è sempre stato uno degli elementi più forti di aggregazione delle società umane qual è il più antico e più grande monumento che noi possediamo chiamiamolo monumento ma serviva a qualcosa Stonehenge vi ricordate Stonehenge enormi steli di roccia altissimi hanno provato anche a calcolare come potevano averli portati lì da dove li potessero aver presi come potessero averli rizzati in questo modo a cosa potessero servire scoprendo che erano orientati secondo un'astronomia allora stiamo parlando di diverse migliaia di anni prima di Cristo assolutamente inedita che si pensava che non possedessero gli antichi abitanti delle isole britanniche eppure il viale principale che porta a Stonehenge e che ancora esiste era esattamente orientato in modo tale che il giorno del solstizio d'estate il sole lo percorreva contemporaneamente e tutti i reperti archeologici trovano che tutta una serie di festeggiamenti e anche di grandi libagioni si trovano molti boccali di birra si trovano ossa di animali macellati per banchetti venivano fatti lì per celebrare i morti il rito dei morti dagli antropologi è considerato in qualche modo l'elemento cardine che segna il passaggio dai primati non ancora umani alle prime specie umane che non è certamente l'uomo sapiens neanche l'uomo di Neandertal ma altre specie animali precedenti che però avevano già l'idea del culto dei morti e il culto dei morti che senso ha se non pensiamo in immortalità dell'anima a un proseguimento della vita oltre la vita ora sul piano psicologico possiamo immaginare ovviamente quali sono i meccanismi che portano a questo tipo di formulazione cioè l'idea in fondo dell'immortalità è quella di poter continuare indefinitamente a vivere la nostra vita aggrapparci alla vita sappiamo in fondo anche se cerchiamo di non pensarci troppo che non è così perché non ci vogliamo pensare troppo perché guardare in faccia alla morte ti segna ti abbaglia ti fa star male come scrisse la Rochefoucauld la morte è come il sole se la guardi fissamente ti toglie la vista devi sempre guardarla un po' di passaggio e allora ecco la soluzione che poi molte religioni recuperano e utilizzano anche se volete a scopo in qualche modo strumentale comportatevi bene secondo i nostri principi non parlo adesso del cristianesimo parlo in generale perché? perché avrete poi il premio perché ci sarà poi qualcosa che vi gratificherà in eterno cosa che ovviamente chi ha fede è giusto coltiva pensa pratica per quello che può siamo esseri umani nessuno è perfetto naturalmente altri che si confessano atei o agnostici però in qualche modo una speranziella la coltivano no? perché poi in fondo l'idea di vivere per sempre come appunto anima o addirittura la risurrezione della carne no? vi ricordate proprio quello che c'è scritto nelle sacre scritture in fondo non è tanto egoistico come desiderio in fondo è un desiderio anzi di ricongiungerci con tutte le persone cariche che non ci sono più e qualcuno di noi lo dice lo vive realmente se ne fosse convinto certamente ne avrebbe un grande sollievo non è forse del tutto convinto ma comunque questa cosa gli dà inevitabilmente un sollievo di poter ritrovare le persone care che abbiamo perso ma quando la Jusenard scrive Memorie di Adriano in un modo talmente documentato attento e preciso che il libro è considerato assolutamente compatibile con quanto si può sapere si conosce oggi della storia della vita di questo imperatore scrive che Adriano attendendo la morte si rivolge alla propria anima con un fare quasi accorato la struggente domanda che l'imperatore pone è dove andrà l'anima una volta distaccata dal corpo e le ricorda che sarà costretta a vagare in luoghi freddi oscuri senza avere più la possibilità di ridere giocare divertirsi se proprio devi immaginare l'immortalità dell'anima perché così cupa perché così triste e anzi il ritorno al nulla degli atomi che compongono il nostro corpo sono dottrine più epicuree vi ricordate che Epicuro gestisce in qualche modo il rapporto dell'essere umano con la morte in un modo apparentemente molto elegante ma anche molto potremmo dire semplice non c'è alcun bisogno del paolo della morte perché quando ci siamo noi la morte ancora non c'è quando ci sarà la morte noi non ci saremo più ah è facile adesso l'ho messa giù ovviamente in un modo un po' scherzoso tutt'altro che banale e semplice la riflessione di Epicuro sulla morte che poi viene ripresa anche da tutti gli epicurei e per esempio anche da Seneca nei suoi scritti nelle sue lettere nei suoi disagi ma in mezzo tra Epicuro e il cristianesimo noi troviamo la filosofia socratica Platone non dimentichiamo che quella che noi conosciamo come Arsmaieutica cioè il modo in cui Socrate descrive nelle parole di Platone ricorderete che Socrate non ha lasciato scritti anzi era molto preoccupato che si fossero cominciati a raccogliere i discorsi in scrittura perché diceva se le persone troveranno le parole scritte chi verrà mai ad ascoltarmi e questo assomiglia un po' se volete alla paura che abbiamo noi se non leggono più i libri cosa impareranno se guardano tutto su internet però ecco quando poi Platone mette in bocca Socrate probabilmente in parte dell'idea che da Socrate aveva sentito in parte delle sue concezioni che poi come allievo in qualche modo aveva mutuato ecco ritroviamo in questo caso un dialogo interessante sapete che molto spesso Platone anzi sempre nei suoi scritti utilizza questa modalità dialogica cioè di confronto dialettico fra varie persone in questo dialogo Socrate sta parlando con un suo allievo che si chiama Cebete e dice poniamo dunque se vuoi soggiunse Socrate due specie di esseri una visibile e l'altra invisibile poniamole gli rispose e poniamo anche questo e disse ebbene che altro c'è in noi risprese Socrate se non da un lato il corpo e dall'altro l'anima non c'è altro disse e il corpo a quale delle due specie di cose diremo che è più simile più affine è chiaro a tutti che è più simile più affine alla specie delle cose visibili e l'anima è visibile o è invisibile chiede Socrate agli uomini almeno o Socrate non è visibile disse ma noi non stiamo parlando ora di cose visibili o invisibili la natura umana o pensi a qualche altra natura no penso alla natura umana e che diciamo dunque dell'anima che è visibile o che non è visibile che non è visibile allora l'anima è invisibile sì dunque l'anima è più simile all'invisibile che non il corpo questo invece è più simile al visibile di necessità o Socrate e non dicevamo poco fa anche questo che cioè quando l'anima si avvale del corpo e può fare qualche indagine servendosi della vista o dell'udito o di altra percezione sensoriale allora è se tratta dal corpo verso le cose che non permangono mai identiche ed erra e si confonde e barcolla come ubriaca perché tali sono appunto le cose a cui si attacca certamente ma quando l'anima sta restando in sé sola e per sé sola svolge la sua ricerca allora si eleva a ciò che è puro eterno immortale immutabile e avendo natura affine a quello rimane sempre con quello ogni volta che le riesca a essere in sé per sé sola e allora cessa di errare e in relazione a quelle cose rimane sempre nella stessa condizione perché immutabili e vere sono le cose alle quali si attacca e questo stato dell'anima si chiama intelligenza perfetto disse ciò che tu dice è bello e vero a Socrate stiamo parlando di un dialogo che si chiama il fedone in cui Platone mette le parole a Socrate in bocca per accenare fuggevolmente a quello che sono le funzioni dell'anima e guardate bene salta fuori l'intelletto l'intelligenza che però è una delle funzioni che noi studiamo che noi psicologi moderni studiamo siamo presuntuosi vogliamo misurare l'anima vogliamo studiare l'anima sì un po' sì la presunzione fa parte della ricerca scientifica c'è la trasmessa prometeo la conoscenza tramite il fuoco l'uso della tecnica per utilizzare ciò che la scienza ci ha insegnato con esiti meravigliosi a volte salvare la vita alle persone per fare un esempio chiaro e terribile in altri casi quando la scienza diventa una tecnica distruttrice le bombe atomiche le bombe le armi ma in questo caso l'intelletto l'intelligenza è qualcosa che passa sentite per una delle funzioni dell'anima e allora è chiaro che questa equazione anima mente è un'equazione certamente imperfetta grossolana ma che ha una sua legittimità persino Platone e Socrate ce lo confermano il loro modo di interpretare l'anima era che l'anima è in grado di capire delle cose e anche di inventare delle cose e anche di affrontare problemi anche problemi nuovi una delle definizioni operative dell'intelligenza in psicologia è proprio questa la capacità di affrontare problemi nuovi in modo originale creativo ed è per questo che noi abbiamo una serie di persone per lo più uomini ma questa è un'altra storia illustri che hanno avuto delle grandi intuizioni e che hanno usato l'intelligenza per capire il mondo e per cambiare il mondo quello che noi abbiamo chiamato scienziati che l'hanno per prima cosa descritto come nasce la descrizione scientifica dall'osservazione empirica dalla sperimentazione e dalla misurazione il nostro grande Galileo Galilei ha scritto il libro della natura è scritto in termini matematici la geometria come la chiamava lui spiega tutto tutto si può interpretare in termini geometrici era un delirio è un delirio dello scienziato un po' pazzo sì e no certo era un modo molto peculiare particolare di interpretare la realtà che però vedete ha e ha avuto e avrà dei risvolti anche molto pratici perché è grazie alla scienza è grazie alle misurazioni di Galileo che dalla torre di Pisa faceva cadere i gravi come richiamava lui e misurava quanto tempo ci volevano e che velocità avessero cercando di calcolare delle formule matematiche che descrivessero questi moti come fece poi Isaac Newton è grazie a loro che tutta una serie di acquisizioni importanti dal punto di vista scientifico ma anche tecnico pratico ci consentono oggi di fare una serie di cose per esempio per lanciare un satellite in orbita geostazionaria in modo tale da poter telefonare a chiunque nel pianeta in modo da poter vedere stazioni televisive di tutto il mondo bisogna calcolare quanto propellente ci vuole per metterlo esattamente in quel punto dell'orbita in cui il satellite resterà sopra la nostra testa e ruoterà certo non eternamente ma per un numero sufficiente di anni sempre nello stesso modo e nello stesso punto funzionando e aiutandoci in tante cose poi chiaro che la scienza non solo non è sempre perfetta ma addirittura è continuamente da perfezionare perché perché se vogliamo lanciare un satellite su questo pianeta dobbiamo utilizzare le formule di Newton che valgono ancora oggi la forza di attrazione gravitazionale che è una costante vi ricordate di 9,8 metri al secondo quadrato ma se siamo su un altro pianeta no? se ammesso che ci siano andati davvero gli astronauti americani sono andati sulla luna o se abbiamo mandato una sonda sul pianeta Marte che poi è tornata indietro abbiamo dovuto calcolare con un'altra formula affine a questa ma per una gravità diversa da quella la scienza progredisce e allarga le sue prospettive l'atomo perché si chiama atomo A è un alfa privativo e Tomos deriva da temno che vuol dire tagliare l'atomo è una cosa indivisibile un'unità indivisibile bene Enrico Fermi l'ha distrutto l'ha aperto liberando una grandissima energia che può anche essere utile se la riesci a gestirla governarla bene dandoci per esempio corrente elettrica invece che ricorre ai combustibili fossili con tutto quel che ne deriva ma che può anche essere utilizzata come energia distruttrice ma l'atomo si era sempre pensato come unico indistruttibile unità minima della materia l'aveva detto Eraclito l'avevano detto tanti scienziati nell'antichità l'universo composto di atomi oggi noi sappiamo che siamo un pugno di atomi e siccome gli atomi sono per lo più vuoti è molto più grande il vuoto dell'atomo che non le particelle noi tutti siamo molto vuoti siamo fatti più di vuoto che di pieno più onde che particelle e in tutto questo l'anima che fine fa dov'è? com'è collocata? beh andiamo avanti anche perché se no qua vi tengo tutta la sera andiamo a Cartesio perché Cartesio ci introducono la dimensione un po' diversa dell'anima perché dice intanto dice è costretto dallo spirito dei tempi dalla situazione di fare tutti i tentativi possibili per evitare di essere bruciato vivo come eretico ha ben presente cosa è successo Galileo Galilei e quindi è costretto ad abbiurare vi ricordate l'abbiura Galileo Galilei sostiene che la terra gira intorno al sole che strana sciocchezza ma che va contro le sacre scritture perché nella sacre scritture c'è scritto in un certo libro che l'esercito degli ebrei condotto da Giosuè stava per sconfiggere il nemico se non sbaglio i filistei quando a un certo punto cominciano a calare la sera e il generale degli ebrei si rende conto che se arriva il buio non riusciranno a sgominare completamente i nemici e allora prega e dice a Dio ferma il sole lascia che il tuo popolo eletto possa vincere la battaglia e Dio fermò il sole questo si trova nella Bibbia a questo punto Galileo sostiene come già Copernico che il sole non si deve fermare è già relativamente fermo oggi sappiamo che non è fermo neanche il sole ma questo è un altro discorso ancora ed è la terra che gira intorno al sole non è il sole che gira intorno alla terra quando sostiene questo ricordate utilizza per la prima volta dei canocchiali l'osservazione astronomica i calcoli che lui usa per interpretare l'universo all'istante le autorità religiose gli ingiungono gli impongono di rinunciare alle sue teorie perché sono eretiche contro le sacre scritture contro la parola di Dio quella che abbiamo sentito nutre l'anima e lui malgrado tutto e con grande rimpianto che avrà per tutta la vita rinuncia rinuncia alle sue teorie Cartesio sa molto bene questo e non vuole assolutamente correre lo stesso rischio e contemporaneamente ha un modo abbastanza elegante di aggirare questo problema perché lui dice beh se devo parlare dell'anima allora ne parlo ma ne parlo in un modo che sia il più possibile affine e fedele alle sacre scritture lui era effettivamente un uomo molto religioso anzi era un sacerdote si trovava la corte della regina Cristina di Svezia Cartesio ha girato molte corti del 500 e del 600 e in quell'occasione comincia prima di tutto a occuparsi di quelle che noi chiamiamo oggi scienze ma che allora erano filosofie la filosofia era la scienza del sapere in generale sempre ma in un'epoca ancora pre-scientifica perché fino allora nessuno aveva compiuto esperimenti fatto misurazioni ci voleva un metodo per farlo il metodo scientifico che Cartesio descrive il discorso sul metodo il titolo di una delle sue opere più importanti e allora comincia a studiare anche il corpo umano alla luce delle nozioni di fisica che ha perché si occupa di ottica si occupa di matematica di assi cartesiani non è mica un caso se si chiamano assi cartesiani e dice riprende un po' il discorso delle cose visibili e invisibili di Socrate e delle cose materiali e immateriali che abbiamo visto in origine ciò che è materiale che si può toccare appartiene alla sfera umana e quindi si può si deve esplorare con uno strumento che chiamiamo metodo metodo scientifico metodo di conoscenza perché poi scienza è l'abbreviazione di conoscenza ma ciò che appartiene all'anima è della sfera spirituale delle cose invisibili che non si possono toccare e quindi noi non possiamo dire nulla dal punto di vista scientifico su questo e alle obiezioni che gli vengono poste in questa rigida divisione in quello che si chiama appunto il dualismo cartesiano cioè il corpo da una parte e l'anima dall'altra risponde dicendo beh sì in effetti una qualche interazione fra il corpo e l'anima ci deve essere perché appunto se io decido che un certo movimento del mio corpo viene fatto in un certo modo è perché la mia anima la mia mente lo ha concepito prima questo gesto lo fa eseguire al corpo oggi quando parlo di misurazione dell'anima da un lato esagero ma dall'altro dico delle cose vere perché nel momento in cui io sto per muovere il mio braccio se fossi collegato a una macchina che fa chiamiamo una risonanza magnetica funzionale per intenderci si vedrebbero i neuroni che funzionano una frazione di secondo prima che il mio braccio si muove quindi in realtà non c'è una simultaneità fra corpo e anima e per certi aspetti ha ragione anche Cartesio quando dice il corpo è come il cavallo e l'anima è come il cavaliere il cavaliere sale sul cavallo e poi lo guida perché? perché se lo lasci a se stesso il cavallo va dove vuole lui o si imbizzarrisce e gli obiettano d'accordo e allora come fa l'anima a comandare al corpo qual è il tramite se l'anima è spirituale e non appartiene a questo mondo e il corpo invece appartiene a questo mondo e nella tua teoria come spieghi che appunto poi a un certo punto invece il cavallo va dove vuole il cavaliere e perché dice lui c'è un meccanismo io ve la faccio un po' da fumetto questa storia però ovviamente un vero filosofo inurridirebbe e vi spiegherebbe in un modo molto più attento molto più preciso c'è una piccola ghiandola che si chiama epifisi che è quella che mette in correlazione l'anima e corpo c'è un'interazione infatti le teorie cartesiane si chiamano anche il dualismo interazionistico mente-corpo in termini filosofici cioè ci sono due istanze separate ma interagiscono fra loro da qui in poi il corpo può essere esplorato e studiato cosa che finora era proibita perché non dimentichiamo che non si potevano studiare i cadaveri anzi soltanto in certi casi particolarissimi gli anatomisti in epoca non scientifica potevano avere accesso allo studio della natura e dell'anatomia umana infatti i primi medici erano i medici dei gladiatori Galeno era un medico nato proprio come medico dei gladiatori lui era nordafricano e in nordafrica se avete mai fatto un giro in Tunisia per esempio trovate in ogni città praticamente un piccolo grande colosseo un piccolo grande anfiteatro perché? perché come da noi le partite di calcio in America quelle di football americano in ogni cittadina c'erano queste specie di chiamiamoli tornei sport certo sanguinarie non simbolici come sono i nostri o come vorrebbero essere i nostri perché anche i nostri diventano sanguinarie in certe situazioni almeno pensate alla tifoseria accanita alla violenza negli stadi quindi non è una cosa poi così remota anche nella nostra realtà ecco i medici dei gladiatori ricucivano le ferite che erano ferite potete immaginarlo laceranti e così potevano studiare il corpo umano fino al a medioevo si può dire gli unici cadaveri di cui si poteva in qualche modo perché non interessavano nessuno fare studio e che venivano anzi se li rubavano a vicenda gli studiosi i medici che si occupavano di anatomia erano quelli dei criminali che venivano impiccati venivano squartati le pene appunto corporali e la pena capitale era all'ordine del giorno o se un cadavere non apparteneva a nessuno e quindi non si poteva seppellire in terra consacrata ecco questo era il modo di accesso sempre un po' clandestino sempre un po' trasgressivo e sotto rischio di essere considerati appunto stregoni sciamani fattucchieri persone che si occupavano di far resuscitare i morti qui nasce poi il mito di Frankenstein e degli zombie o il mito dei vampiri che sono morti che ritornano alla vita e non sto parlando adesso di fumetti o di film sto parlando della storia del costume dell'Europa centrale nel 1300 nel 1400 Vlad l'impalatore Dracula era un principe nell'attuale Romania ma non divaghiamo troppo ecco la copertina del discorso sul metodo vedete l'idea che appunto nell'uomo cartesiano anima corpo e passioni siano strettamente collegate e in fondo la permanenza di teorie primitive non solo in alcune civittà come studiate dagli antropologi uno di questi era Lucien Lévi-Brull ma anche nella nostra realtà quotidiana perché non esiste l'idea che ci sia un'anima primitiva non so vi è mai capitato di avere un oggetto che vi sembra in qualche modo come dire sfortunato maledetto che abbia una sua anima e che quindi se possibile venne liberate non venne avere più niente a che fare lo ritroviamo vi ricordate anche in Collodi in Pinocchio quando Mastro Geppetto riceve da Mastro Ciliegie il legno che gli risponde e allora lo interpreta un po' come una specie di sortilegio o di allucinazione perché il legno gli parla è una trasposizione letterale del fatto che anche il legno ha un'anima anche i burattini hanno un'anima anche i burattini ambiscono ad averla un'anima nel suo scritto l'anima primitiva Levi Brun scrive proprio le rappresentazioni che nelle popolazioni cosiddette primitive si riferiscono proprio alle descrizioni dell'anima il passaggio dalla vita a altre forme di esistenza dopo la morte la sopravvivenza dei morti nella fase di passaggio dalla vita alla morte quello che noi conosciamo come la vita oltre la vita le visioni che in qualche modo le persone in condizioni agonica o preagonica se si salvano raccontano dopo mi trovavo ero in fondo a un tunnel vedevo una luce delle fiammelle vedevo delle persone che mi chiamavano e io dicevo no ho visto mia madre ho visto tutta una serie di sensazioni che in letteratura scientifica si chiamano NDE cioè Near Death Experience l'esperienza di essere vicini alla morte quei momenti in cui raccontano poi le persone sono testimonianze reali non sappiamo quanto per carità alludano a qualcosa di concreto ma sappiamo che esistono che nel momento in cui erano in coma o hanno avuto un incidente e stavano quasi per morire prima che le rianimassero hanno visto delle cose delle luci delle persone hanno avuto un'esperienza extracorporea vedevano il proprio corpo dall'alto ecco sono cose che le popolazioni primitive continuano a credere a pensare una volta ero molto giovane erano un'ossichiatra di turno a Sant'Anna e mi chiamarono per un ragazzo di colore che era spaventatissimo e sudava febbrilmente diceva cose strane mezzo in francese mezzo in italiano e alludeva il fatto che era perseguitato dai morti che vedeva dai morti continuamente intorno a lui i colleghi del pronto soccorso hanno detto chiama caracciolo subito questo qua quando sono arrivato ho scoperto che questo ragazzo che era di origine haitiana era stato allevato all'interno di una religione che assomiglia a quella che chiamiamo volgarmente la religione voodoo in cui c'è effettivamente il culto dei morti l'idea che i morti possano tornare che si possano far ritornare e che possano far parte popolare del nostro mondo in condizioni ovviamente di particolare angoscia particolare panico forse anche sotto l'influsso di qualche sostanza questo ragazzo rivediva delle cose che però non erano come le interpreteremo noi in una persona nata e vissuta nella nostra sociocultura un delirio assomiglia di più a quello che potrebbe essere un delirio mistico se volete di qualcuno che è convinto di aver visto un'apparizione un santo che gli è comparso la madonna che sono da ricoverare la pastorella di Fatima o Bernadette Subiru oggi gli psichiatri forse li ricovererebbero almeno degli psichiatri un po' ciechi nei confronti di queste cose ma esistono invece esperienze spirituali che sono importanti e che non si possono così facilmente le mettere nel ridicolo con l'idea ah sciocchezze sono cose che non esistono che la sua mente malata ha partorito come purtroppo presuntosamente a volte succede queste credenze primitive abitano ancora la nostra anima ma andiamo avanti se non non arriviamo mai a James Hillman ecco Franco Fornari per esempio vede il mito platonico il mito platonico in questo caso non nel Fedone il brano che abbiamo letto ma nel Fedro come quella figura che abbiamo visto prima c'è una biga questa è la figura una biga trainata da due cavalli dice Platone uno bianco e uno nero quello bianco è puro è buono è discendere solo da cavalli puri da cavalli buoni quello nero invece è tutto il contrario e se l'auriga riesce a guidare bene il cavallo buono che sale ma leggiamo il brano vero e proprio c'è qua forse va anche riportato eccolo qua Socrate sdraiato sotto un platano lungo il fiume ilisso racconta come l'idea dell'anima sia quella di una forza composta di un carro alato trainato da due cavalli e guidato da una riga il cavallo bianco è buono quello nero è l'opposto e l'anima spazia per il cielo e se è perfetta è alata domina il mondo intero fino ad arrivare al prato in cui si trova il nutrimento adatto alla parte migliore dell'anima il viaggio dell'anima è un'ascesa verso il divino nella contemplazione del divino guidato dall'intelletto verso la conoscenza Fornari Franco Fornari è nato a Piacenza è insegnato per tutta la vita a Milano è stato anche presidente della società psicoanalitica italiana è stato anche un mio maestro direttamente per un po' di tempo indirettamente perché è stato maestro del mio maestro il professor Molinari e a partire dai sogni dei suoi pazienti ripercorre con gli strumenti della psicoanalisi proprio questo mito dell'anima in una sintesi di vari dati anche legati a osservazioni sperimentali compiute nei laboratori del sonno dei sogni che succedono nella nostra mente quando c'è il sogno come il sogno e questo lo vedremo è un concetto importante anche per Hillman è una finestra sul nostro inconscio e la nostra anima è fortemente collegata agli aspetti inconsci a ciò che noi abbiamo dentro di noi ma non sappiamo di sapere e anzi a volte facciamo di tutto per non sapere o per non ricordare ma esiste dentro di noi dice la leggerezza dell'anima che trascende contraponte al peso il peso della gravità la luce interiore è una specie di accensione di anima che avviene di fronte alla bellezza e all'amore come nel mito platonico i due cavalli bianco e nero secondo Fornari si possono far corrispondere alle due grandi forze pulsionali che guidano tutto il destino dell'essere umano la forza che porta verso il bene l'eros l'amore che porta verso il piacere dare piacere ricevere piacere non solo il piacere fisico anche ma anche soprattutto il piacere sublimato a dei livelli più importanti più grandi fare del bene all'altro essere altruista rinunciare a qualcosa sentendosi meglio più felice per questo e anche più leggero perché no contrapposto invece alla pulsione nera a Thanatos alla morte alla spinta che è la spinta per la distruzione l'aggressività che serve anche per salvare l'individuo perché se non hai aggressività quando sei aggredito come fai a non soccombere la spinta animale l'anima che chiamiamo anima sensitiva degli animali che agisce proprio in funzione di queste spinte istintuali primordiali negli esseri umani ci auguriamo che non siano sempre istinti che possano essere governati per questo le chiamiamo pulsioni perché sappiamo che di fronte a un nemico di fronte a una persona che ci si pone contro se è possibile e per quanto è possibile noi non l'aggrediamo noi non rispondiamo necessariamente con la stessa violenza con la stessa rabbia anzi non solo c'è il perdono c'è la capacità anche di andare incontro all'altro e questo smonta spesso l'aggressività dell'altro nella relazione che viene come diceva Fornari bonificata cioè resa buona Fornari descriveva quattro tipi principali di interazioni umane la più ovvia la più frequente è mors tua vita mia cioè io ti uccido perché così posso sopravvivere io così fanno gli animali un animale aggredito reagisce e reagisce per salvare la propria vita ma c'è anche mors tua mors mia cioè moriamo tutti e due e ne troviamo un esempio terribile se volete ma in tutte le cronache giudiziarie le cronache nere dei nostri giorni uomini che uccidono donne per lo più e poi si uccidono mors tua mors mea che uccidono addirittura i figli in questa spirale in cui l'interazione è tutta concentrata sulla morte sulla ricerca della morte sul desiderio di morte ma c'è anche l'opposto vita tua vita mia cioè se io vivo sto bene sono felice e anche tu lo sei quanto è potente questa interazione quanto amplifica una spinta non verso il basso verso gli inferi verso i bui e angusti sentieri che abbiamo visto in Omero che abbiamo visto raccontati in poesia dall'imperatore Adriano non l'abbiamo visto ma sono quelli che Dante Alighieri ci raccontano attraverso la natural burrella attraverso appunto l'equivalente dell'ade del cocito della paruta ghiacciata in cui le anime brave cioè i condannati a soffrire in eterno pagano per i loro peccati ecco questo dipinto di Tiziano secondo Fornari l'assunta di Tiziano che sta in una bellissima chiesa di Venezia che si chiama Santa Maria dei Frari è proprio la rappresentazione più perfetta dell'anima nel suo moto di ascesa verso la luce e il fulgore di Dio l'anima come scrigno delle emozioni come scrigno dei pensieri dei sentimenti che spinge l'essere umano verso l'alto l'unico vero psicologo che ha descritto utilizzato il termine anima è Jung qua lo vediamo in una rara foto del 1906 in cui Freud e Jung brindano il giorno del compleanno di Carl Gustav Jung è rara anche perché subito dopo Jung e Freud litigarono e non si parlavano praticamente mai più per tutta la loro vita Jung era stato a lungo allievo di Freud di fatto affondarono due anche scuole psicoanalitiche differenti di cui appunto anche il nostro James Hillman fa parte quando Animus e Anima si incontrano dice Jung Animus estrae la sua spada potente mentre Anima emette il suo veleno di illusione e seduzione strana concezione che tra l'altro non abbiamo incontrato finora l'idea che l'anima sia divisa in due parti certo è una formulazione se volete poetica più che filosofica o scientifica che però se ci pensiamo rimanda a una dimensione interiore di dissidio nella nostra anima non la ritroviamo poi così strana se ci pensiamo adesso al di là delle immagini della spada perché Animus è la parte maschile dice Jung della personalità mentre Anima è la parte femminile e possono in questo caso esprimere aggressività in modo riferente in un modo più feroce più virile più fallico se volete la spada e invece in un modo più sottile più femminile l'illusione e la seduzione che l'anima cioè la parte femminile è dentro ciascuno di noi perché non stiamo parlando delle anime maschili e femminili differenti l'una dall'altra in ciascuna anima sia che appartengano un maschio o una femmina secondo Jung ci sono delle parti maschili e femminili e questo dobbiamo riconoscere a un suo fondamento anima è l'immagine spirituale dell'essere umano secondo Jung rappresentata nei sogni o nelle fantasie maschili da una figura femminile mentre nella donna Animus è l'immagine di forza spirituale simbolizzata come figura maschile se uomini e donne non sono consapevoli di queste forze interiori esse gli riappariranno in proiezioni inconsce cosa significa tradotto in termini più semplici anche più attuali che esistono delle componenti femminili in qualunque maschio e delle componenti maschili in qualunque femmina certo in misura differente miscelate in modo diverso ma questo questo non ci sorprende conosciamo donne sicure di sé donne per certi aspetti quasi non dico violente ma insomma provocatorie nella loro femminilità che diventa in qualche modo un imporsi sull'altro così come conosciamo maschi invece molto dolci molto teneri che sono anche propensi a essere materni nelle loro modalità diciamo poi che tutti questi elementi all'interno di ogni personalità vengono forgiati e plasmati dal condizionamento ambientale quindi è quel processo che noi chiamiamo educazione che è una forma più o meno violenta di persuasione di condurre l'anima in una direzione o dell'altra quindi non ci sorprende questo tipo di condizione adesso questa è rimasta in inglese scusate ecco Inban parte da questa teoria dell'anima dalla teoria junghiana è nato in una famiglia ebraica ha frequentato la Sorbona si è laureato al Trinity College un prestigioso istituto universitario irlandese a Dublino viaggia quando è giovane quando ha poco più di vent'anni in India e medico pratica la medicina all'inizio della sua carriera e comincia poi a studiare a Zurigo dove c'era appunto la scuola di Jung Gustav Jung era zurighese di nascita e divene anche direttore di questa scuola fino a 1969 dirige la scuola junghiana poi comincia invece a pubblicare dei suoi lavori che sono lavori sempre più devianti rispetto alle teorie junghiane tanto che viene considerato dagli stessi junghiani un po' un eretico e molte delle sue teorie che portano anche a fare scandalo sono centrate proprio sull'idea dell'anima in Italia lui ha avuto una grande collaborazione anche una medicina personale in una studiosa pensate di storia bizantina una storica che si chiama Silvia Ronkey e che ha curato praticamente tutti o molti comunque dei suoi libri più recenti in alcuni dei quali noi troviamo per esempio un dialogo questo è l'anima del mondo che altro non è che non una conversazione tra Hillman e Ronkey Silvia Ronkey chiede per esempio a proposito di Pan Pan vi ricordate il dio selvaggio il dio che gli antichi greci considerano appunto l'anima del bosco della foresta degli animali c'è un momento dice lei nella storia del mondo antico in cui per usare le parole di Plutarco il grande Pan è morto ma perché Pan è morto e Inman risponde in parte perché non si credeva più che la natura potesse parlare la natura gli alberi le rocce l'acqua i fiumi erano stati creati da dio ma non erano dei di per sé a un certo punto c'era un solo dio lassù che aveva indiato in terra un suo figlio Gesù Cristo e questo mito si era sostituito da tutti gli altri uno dei primi teologi bizantini Gregorio di Nazianzo ha scritto teniamo ogni pensiero prigioniero per Cristo intendeva dire che ogni pensiero riguarda la terra le rocce i fiori gli animali il mattino l'alba tutto ciò che ha a che fare con la vita deve essere compreso attraverso il mito cristiano e il mito cristiano afferma che c'è un unico dio e che dio ha un figlio e che questo figlio è morto per i nostri peccati lei conoscerà bene questo mito tutti lo conosciamo gli altri dei dovevano scomparire e infatti sono scomparsi si sono nascosti sotto terra e sono riemersi soltanto come ha spiegato bene Jung nei nostri sogni nelle nostre malattie perché erano stati rimossi e come ha scritto Freud il rimosso tornerà sempre cosa vuol dire che riemersi nei nostri sogni nelle nostre malattie pensate a quanto ha scosso la nostra anima la pandemia negli ultimi due anni cosa è successo perché le malattie ci sono sempre state state anche molto peggiori di queste perché ci hanno coinvolto perché sono venute proprio dal profondo della nostra anima un ritorno all'orrore della morte che bussa alla nostra porta e che non a caso proprio in questi giorni sta avvenendo un passaggio di testimone dall'orrore della pandemia all'orrore della guerra all'orrore della carestia l'assalto ai supermercati l'olio di semi prima era il lievito due anni fa oggi c'è qualcosa su cui le nostre paure più profonde più ancestrali che parlano proprio della nostra anima si risvegliano si rimettono in moto ecco Irman scrive nel codice dell'anima proprio che è uno dei suoi libri più importanti più significativi proprio come ci sia dentro la nostra anima un aspetto che si chiamava daimon secondo gli antichi e che dice il concetto di immagine individualizzata dell'anima ha una storia lunga e complicata compare sotto le più svariate forme in quasi tutte le culture e i suoi nomi sono legioni un riferimento come sapete evangelico io sono legione soltanto la nostra psicologia e la nostra psichiatria l'hanno tirato fuori dai testi nella nostra società le discipline che si occupano dello studio della terapia della psiche ignorano il fattore che altre culture invece considerano il nucleo portante della personalità l'oggetto centrale della psicologia la psiche o anima non entra nei libri ufficialmente dedicati al suo studio e alla sua cura e ha ragione in questo libro userò in maniera pressoché intercambiabile molti dei termini che designano la nostra ghianda intesa come immagine carattere fatto genio vocazione daimon anima destino dando la preferenza l'uno all'altro a seconda del contesto tale uso poco rigoroso si adegua allo stile di altre culture spesso più antiche della nostra che hanno di questa enigmatica forza della vita umana una percezione più raffinata che non la nostra psicologia contemporanea con la sua tendenza a ridurre a definizioni univoche la comprensione di fenomeni complessi non bisogna avere paura delle parole antisonanti come anima esse non sono vuote semplicemente sono state abbandonate e vanno riabitate riabilitate le nostre parole i nostri nomi le molte parole che usiamo non ci dicono che cosa sia questo qualcosa però ci confermano che esiste e alludono la sua qualità arcana non possiamo sapere a cosa esattamente ci riferiamo perché la natura di questa spinta rimane nebulosa si rivela più che altro per allusioni per sprazzi di intuizione insussurri delle improvvise passioni e bizzarrie che interferiscono nella nostra vita e che noi ci ostiniamo a chiamare sintomi un esempio concorso per dilettanti alla opera house di Harlem in America sale timorosa sul palco una sedicenne goffa e magrolina viene presentata al pubblico ed ecco a voi ora si esibirà Miss Ella Fitzgerald Miss Fitzgerald ballerà per noi un momento un momento come dici cara mi corrego signore e signori Miss Fitzgerald ha cambiato idea non vuole ballare vuole cantare e la Fitzgerald cantò e dovette concedere tre bis e vinse il primo premio eppure la sua intenzione era stata quella di esibersi nel ballo fu il caso a farle cambiare idea di punto in bianco o era entrato in azione un gene un'anima del canto oppure quel momento era stata un'annunciazione che aveva richiamato Ella Fitzgerald dal suo destino pur con tutta la sua riluttanza accogliere nel proprio campo di studio il destino individuale la psicologia ammette che ciascuno di noi ha una propria costituzione che ciascuno di noi ha rispetto a volte di tutto e di tutti è un individuo unico e irripetibile la teoria della ghianda dice e ne porterò le prove che io e voi e chiunque altro siamo venuti al mondo con un'immagine che ci definisce la ghianda intesa proprio come immagine piccola di quello che diventerà la quercia dopo l'individualità risiede in una causa formale per usare il vecchio linguaggio filosofico che risale ad Aristotele oppure nel linguaggio di Platone e di Plotino il neoplatonismo rinascimentale ciascuno di noi incarna l'idea di se stesso e questa forma questa idea questo daimon questa immagine non tollerano divagazioni la teoria inoltre attribuisce all'immagine innata dentro di noi un'intenzionalità angelica o daimonica come se fosse una scintilla di coscienza non solo afferma che l'immagine il daimon ha a cuore il nostro interesse perché ci ha scelti voi capite come possono suonare parole insolite in una realtà psicologica che si vuole proporre come scientifica e che procede appunto in modo sperimentale lui parte con le sue teorie dall'anima e dall'archetipo due concetti junghiani per proseguire però considerando che gli archetipi sono le radici dell'anima quanto agli archetipi lui definisce i modelli più profondi del funzionamento psichico come le radici dell'anima che governano le prospettive attraverso cui vediamo noi stessi il mondo le immagini a cui ritornano continuamente la vita psichica e le teorie su di essa nel codice dell'anima appunto riprende anche le teorie di plotino che ha scritto le enneadi un'opera fondamentale dedicata per lo più in grande parte almeno una delle nove enneadi e dal greco che vuol dire nove argomenti uno di questi argomenti il più importante è l'anima e Hillman si rifà direttamente al mito dell'anima al daimon come l'ha descritto prima cioè il destino la necessità e l'idea quindi che ci siano in fondo delle vocazioni delle spinte fondamentali come ci ha descritto per Ella Fitzgerald in cui noi spesso ci ritroviamo a dover allineare la nostra vita su questa traiettoria come se fosse in qualche modo già precostituita ovviamente al di là degli accidenti della vita dei contracolpi naturali che l'essere uomini e donne nel mondo concreto porta con sé e che fanno parte in generale del disegno dell'immagine a volte sono deviazioni momentane altre volte contribuiscono in modo importante e necessario quante volte un evento della vita ci ha scosso appunto tale che la nostra vita è cambiata è come quando un fulmine colpisce un albero e l'albero quando rinasce se riesce a rinascere si porta dietro comunque il segno carbonizzato della parte che ha perso e magari germoglia nella parte rimanente ma non sarà mai più lo stesso albero i neoplatonici parlavano di un corpo immaginale che ci trasporta come un veicolo che è il nostro personale supporto o sostegno c'è chi fa riferimento all'antica dea fortuna chi è una sorta di genio genio nel senso di spirito è una parola che deriva dall'arbo per questo poi la lampada ha il genio della lampada che in realtà è uno spirito per gli egisti poteva essere il ka o il ba con cui si poteva dialogare presso gli eschimesi e altri popoli che praticano lo sciamanesimo e il nostro spirito la nostra anima animale la nostra anima respiro Plotino afferma che l'anima in associazione al daimon quando viene al mondo sceglie i genitori il luogo le circostanze è il corpo in cui si vive e anche Hillman nell'anima del mondo dice il daimon personifica il destino individuale corrisponde ai concetti che in altri contesti chiamiamo spirito guida voce interiore o angelo custode in senso cristiano ecco quindi che Hillman è stato visto in vari modi è descritto come uno psicologo indipendente un visionario un maniaco un re filosofo contemporaneo in realtà è visto come un pensatore molto sovversivo una spina nel fianco degli psicologi cosiddetti rispettabili ma è a persone così che noi dobbiamo l'originalità dei pensieri a chi sfida i dogmi esistenti e quindi dobbiamo essere molto riconoscenti a Hillman e la sua teoria della ghianda lui dice la chiamiamo teoria ma non è una teoria scientifica la teoria si basa su indizi io raccolgo degli elementi e poi li unifico in una teoria la teoria della relatività dice che eccetera eccetera perché parte da qui no questo è più un mito è come il mito di Platone tu vieni al mondo con un destino la teoria della ghianda dice che esiste un'immagine individuale che appartiene alla tua anima è solo la tua lo stesso mito c'è nella cabala ebraica i mormoni ce l'hanno gli africani ce l'hanno gli induisti e i buddisti l'hanno in modo diverso lo ricordano più al karma e alla reincarnazione è ben radicato negli indiani d'America ci sono dei miti meravigliosi di cui parla anche Hillman degli indiani d'America che parlano della creazione e la creazione è questa Wakantanka Manitù se volete a seconda delle tribù siù i rocchesi vengono chiamate in modo diverso la divinità ha creato l'uomo a partire dalla terra prima ha preso della terra argillosa e ha creato gli esseri umani bianchi ma quando ha soffiato in questi la sua anima non era contento ha preso della terra scura e ha creato gli esseri umani neri ma anche qui non era del tutto convinto alla fine ha preso dell'argilla rossa e soffiandoci dentro l'anima ha creato i pelle rossa allora alla fine era davvero soddisfatto dice Hillman esiste un anima animale sono gli animali che noi abbiamo dentro gli animali che incontriamo nei nostri sogni e non sono nelle fisionomie degli esseri umani che a volte ricalcano alcune fisionomie animali ma proprio nella loro anima nel loro modo di comportarci e proprio per questo le definizioni spesso passano quello là è un maiale non fare la talpa sei infido come un serpente sono animali mitici non sono gli animali reali ma sono gli animali che appunto abitano il nostro inconscio e quindi vengono fuori nei nostri sogni dice Hillman abbiamo bisogno degli animali perché sono l'immagine riflessa di noi stessi non possiamo conoscere noi stessi senza vederci riflessi in loro questo l'ho scritto in un libro che si chiama Presenza animale che è un libro molto bello e questo ci rimanda a un libro che ho già avuto occasione di citare che fra l'altro è un libro molto curioso molto particolare è stato pubblicato nel 2020 dopo il primo lockdown ed è arrivato come manoscritto anonimo alla redazione di uno degli inserti di Repubblica quello che si chiama Robinson e che si occupa appunto di libri e di cultura in generale l'autore si autodefinisce filelfo che è il nome in realtà di un oscuro e antico filosofo medievale ma il libro l'assemblea degli animali ha come sottotitolo una favola selvaggia ed è davvero una favola parte dall'idea che gli animali si trovino si incontrino in un luogo che è il luogo dove da sempre gli esseri viventi si sono incontrati ma che gli uomini hanno dimenticato e all'inizio c'è proprio la descrizione comincia così cantami omusa no cantami omuso di cane gatto cavallo tigre orso scimmia asino mucco cammello l'ira funesta della terra contro l'uomo chi sono io chiamatemi filelfo si può credermi non ha importanza non dico nulla di mio ripeto come nei tempi a quali con umiltà mi ispiro parole altrui come sto facendo io ma lui lo fa in un modo molto erudito perché in realtà questo autore che non conosciamo ha una conoscenza perfetta della letteratura che ha parlato proprio di questi argomenti cita fonti neoplatoniche dice ripeto parole altrui dettate non dalle muse ma da una progenie altrettanto antica gli animali sono stati loro abitanti delle foreste del cielo dei mari a parlarmi della natura dell'anima del mondo dell'arca che l'uomo ha dentro di sé di come ritrovarla è una storia vera è un racconto morale un mito una fiaba giudicate voi al nessuno che sono nell'anno del topo le bestie hanno affidato un messaggio semi e raccolti freddo e caldo estate e inverno giorno e notte non cesseranno ma solo finché dura la terra sentite quanto l'anima del mondo è presente in questa favola certamente un po' visionaria ma sicuramente concentrata sul fatto che esisteranno queste cose che avremo un pianeta e oggi abbiamo coscienza del fatto che il pianeta lo stiamo in qualche modo portando verso un destino negativo tant'è vero che oggi sono più il freddo e il caldo le stagioni non sono allusioni come dire del tutto astratte rimanda al neoplatonismo del rinascimento italiano e all'idea che ci sia un'anima del mondo e che in qualche modo gli animali ci rimproverano che abbiamo dimenticato l'anima del mondo che l'abbiamo calpestata che l'abbiamo trascurata inquinando questo pianeta allevando animali per uccidere sterminando intere specie per il solo gusto di fare il safari o di raccogliere l'olio di balena specie fra l'altro molto molto vicine a noi e con funzioni mentali molto importanti i cetacei hanno sicuramente una mente molto fine molto simile a quella degli esseri umani perché sono mammiferi adattati alla vita acquatica non sono pesci lo sapete anzi devono venire a galla per respirare e proprio per quello gli uomini hanno cominciato a ucciderli approfittandone per farne la più grande industria dell'ottocento che ha illuminato tutti i paesi occidentali della rivoluzione industriale da Londra in poi raccogliere l'olio di balena era uno degli affari più vantaggiosi economicamente più remunerativi intere flotte di marinai come racconta Melville in Moby Dick non c'è niente di inventato in Moby Dick anzi è un romanzo ma su una storia vera è realmente accaduta e anche lì abbiamo l'animale che si ritorce sull'uomo che si vendica dell'uomo e l'idea di questa favola di filer fu proprio che gli animali ci abbiano mandato un avvertimento terribile il covid-19 che infatti viene dagli animali ha fatto il cosiddetto salto di specie è passato probabilmente dal pipistrello agli esseri umani come tantissimi altri virus anzi praticamente tutti i virus e i batteri prima o poi hanno compiuto questo salto di specie non è una cosa nuova è una cosa che anzi ci si attende periodicamente era già successa con il SARS-CoV-1 con la febbre asiatica cinese Hong Kong e così via e dagli animali spesso che ci arrivano questi e l'idea è c'è questo monito questo avvertimento attenzione pensate anche a noi pensate a questo pianeta l'anima del mondo io vi ringrazio ci fermiamo qua grazie vi auguro una buona serata e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 21 aprile quindi fra poco più di un mese e ci ritroviamo qua stessa ora sempre alle 5 questa volta andremo al teatro anatomico grazie grazie di cosa grazie a tutti 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 grazie a tutti